Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Crypto51 e qui parliamo di CryptoValute in questo video parlo di Just, la nuova piattaforma del progetto Tron che mira a creare una rete di DeFi quindi una piattaforma su Tron, quindi su Blockchain Tron che porta la DeFi dentro Tron ma prima di iniziare con il video vi chiedevo di supportare il canale con una bella iscrizione e lasciate un bel mi piace ok, allora iniziamo con il video e quindi iniziamo dal sito di Just.network che lascerò in descrizione così potete andarlo a vedere se è la prima volta che lo state seguendo quindi al primo impatto si presenta così la piattaforma dove possiamo vedere come nella parte in alto c'è il menu dove possiamo andare a vedere tutte le funzioni della piattaforma come Product dove andiamo a vedere dopo in seguito a vedere come funziona la piattaforma lo scan, il white paper, la foundation e la community quindi più o meno sito molto semplice feci anche un video precedentemente ve lo consiglio di andarlo a vedere e parla appunto dell'angio di questa piattaforma su Tron e quindi l'angio dell'aggiornamento che c'è stato circa un mese fa quindi per andare a vedere tutte le caratteristiche della piattaforma e quindi come poter creare un CDP oppure addirittura partecipare alla governance andiamo qui su Just Portal ecco qui, quindi questa è la schermata iniziale del portale di Just quindi qua andiamo a vedere un po' tutte le funzioni che fa questa piattaforma come possiamo vedere a primo impatto ci appare questa scritta qua Open CDP cioè possiamo andare ad aprire un contratto collateralizzando i nostri Tron nel nostro portafoglio dopodiché ci vengono dati dalla piattaforma i USDJ che sono praticamente la stablecoin di Tron quindi sul rete Tron ancorata al dollaro quindi uno a uno rispetto al dollaro per poter entrare sulla piattaforma ovviamente dovete installare sul vostro browser il portafoglio Tron Link io già l'ho fatto infatti se voi ci fate caso in alto a destra possiamo vedere il mio indirizzo collegato al portafoglio infatti sul portafoglio ho quasi 4,38 TRX giusto per vedere come funziona la piattaforma e quindi ci dobbiamo collegare con il nostro portafoglio apriamo la piattaforma e possiamo andare a creare il CDP quindi se vogliamo andare a creare un CDP basta andare a posizionare su questa schermata quanti TRX vogliamo collateralizzare ovviamente il rapporto di collateralizzazione è 150% quindi cioè dobbiamo avere un rapporto di 150 rispetto ai USDJ che andiamo a generare in questo caso voglio generare ad esempio un TRX e ovviamente ci viene detto sotto che non è possibile depositare un minimo di TRX per CDP infatti per creare un contratto di CDP bisogna avere 100 TRX ovviamente non c'è lì i 100 TRX e quindi non posso creare i miei USDJ perché ce ne vogliono 100 quindi se avevo 100 quindi dovevamo inserire ovviamente qua ci viene detto che non ho 100 ovviamente se avevo 100 TRX basta che andavo a inserire l'importo qui e andavo a cliccare sotto qua su generate USDJ quindi schiacciando qua mi andavo a generare gli USDJ dopo che avevo avuto questi USDJ quindi andavo a confermare tramite il wallet e quindi li mettevo bloccati sulla piattaforma oppure addirittura li potevo utilizzare su un'altra piattaforma e quindi utilizzare i USDJ che sono ancorati al dollaro invece se noi andiamo in governance possiamo andare a partecipare quindi a guadagnare qualcosa mettendo in taking i nostri just cioè praticamente i just che ci vengono dati ogni mese come avevo detto io nel video precedente quindi infatti ve lo consiglio di andarlo a guardare dove TRON praticamente ci rilascia ogni mese circa un rapporto tra 1 a 10 dei nostri TRON che abbiamo nel nostro portafoglio come potete vedere a me mi hanno rilasciato 19 just perché avevo l'importo in questo wallet quindi quando ci vengono dati i just li possiamo caricare su questa piattaforma come ho fatto io sempre tramite il wallet e possiamo andare a votare in questo caso ho votato per questa proposta dopodiché secondo come ho capito io ci dovrebbero dare delle ricompense sempre in just per aver partecipato alla governance della piattaforma e quindi praticamente questa procedura serve per guadagnare quindi per mettere in staking i just e quindi poter guadagnare da loro quindi è una specie di rendita passiva quindi l'unico modo per guadagnare su questa piattaforma è questa procedura qua quindi governance mettere in staking i just e quindi andare a votare le proposte quindi io ancora non ho guadagnato niente perché ho votato la proposta circa 2-3 giorni fa e quindi più o meno aspettiamo e vediamo che cosa succede dopo infatti farò altri video come questi su questa piattaforma oppure su TRON sulla piattaforma di TRON andiamo a vedere poi in seguito anche come si mettono in staking e si va a votare sulla piattaforma di TRON andiamo a vedere più nel dettaglio come funziona il DEX all'interno della piattaforma anche di TRON ma questo lo vediamo sempre nei prossimi video in questo video ci concentriamo su just e quindi praticamente intanto a mettere i just in questa piattaforma si potranno guadagnare altri just e quindi una rendita passiva se invece noi andiamo su scan possiamo vedere tutti i dettagli della piattaforma quindi quanti TRX ci sono collateralizzati quindi ci sono circa 14 milioni di dollari poi gli USDJ generati quindi 4 milioni i just, il prezzo del just che è quasi 8 millesimi e quanti contratti vengono istituiti in una settimana ad esempio qua c'è scritto 93 qua più o meno ci fa vedere il grafico di più o meno come è distribuito i CDP sulla piattaforma quindi più o meno questa è la piattaforma molto semplice da utilizzare trovo molto confidenziale ma non trovo invece confidenziale il fatto sta che Tron ha creato un altro token come just che a mio avviso non servirebbe a granché anche perché bastava utilizzare lo stesso Tron quindi lo stesso TRX per partecipare a questa piattaforma e quindi non cercare di creare altri token ovviamente questa piattaforma utilizza la blockchain di Tron e quindi è una piattaforma dedicata alla DeFi e quindi è specializzata nel campo della DeFi quindi Tron ha copiato interamente Ethereum e quindi vuole prendersi una fetta di mercato di Ethereum e quindi cercare di controllare un po' questo mercato anche perché la DeFi è un settore che sta in via di sviluppo e sta crescendo mano a mano infatti se noi andiamo quindi sul sito di DeFi Pulse e andiamo a mettere un anno fa possiamo vedere come circa un anno fa c'erano 541 milioni di dollari collateralizzati ad oggi circa 872 con un picco di un miliardo se mettiamo HAL quindi tutto il tempo possiamo vedere come nel 2018 circa ammontava l'importo a 82 milioni quindi praticamente ha avuto un incremento di 2 anni di quasi 10 volte quindi è un mercato molto in espansione e come possiamo vedere tutti i progetti con maggiore capitalizzazione sono tutti basati su Ethereum ovviamente questo è un sito che prende in considerazione solo Ethereum però gran parte del capitale è su Ethereum quindi è un settore solo di Ethereum e quindi Tron vuole rubarci questa fetta di mercato ad Ethereum quindi in questo video abbiamo visto più o meno come creare un CDB su Just quindi sulla piattaforma di Just partecipare alla governance e più o meno vedere come funziona la piattaforma in generale poi su altri video mi concentrerò pure su funzionamento anche di Tron e dell'ecosistema di Tron ma non solo anche su altri progetti pure legati sempre alla DeFi e quindi Synthetic, Maker e così via che si concedono quindi sulla piattaforma di Ethereum fatemi sapere nei commenti di che cosa pensate di questa piattaforma se la state utilizzando oppure se state trovando delle difficoltà d'utilizzo oppure state trovando molta facilità d'uso e quindi per questo video è tutto vi chiedo ancora di supportare il canale con una bella iscrizione se volete ricevere altri video come questi lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video e ci rivedremo alla prossima grazie